Questo progetto nasce da un bando della regione Sicilia che è l'849 del 2020, è un progetto che viene finanziato appunto dall'assessorato famiglia col cofinanziamento del comune di Montelepre e con la partnership anche del comune di Borgetto e di Giardinello. Noi siamo molto felici per questo, l'avevamo detto in un'intervista di due anni fa, che volevamo fare qualcosa per i minori e finalmente abbiamo creato una prima struttura fisica, è un vero e proprio gioiellino che dobbiamo averne cura noi ma anche la nostra cittadinanza. Cura Matata è un centro aggregativo minorile per bambini dei 3 ai 12 anni, il centro sarà aperto tutti i giorni da lunedì al venerdì in orari extrascolastici, quindi d'inverno dalle 15 alle 18 mentre d'estate dalle 9 alle 13. All'interno del centro vi saranno molti laboratori come il laboratorio di orto, di scienze, laboratori ludici ricreativi, laboratori di teatro e tanti altri. Comunque al centro potranno entrare giornalmente 30 bambini, anche se comunque noi daremo la possibilità a più bambini di usufruire di questo servizio proponendo più cicli. Siamo partner di questo progetto di cui è stato finanziato interamente dalla regione e oggi con grande piacere io e la mia amministrazione siamo qua per dare l'apertura a questo progetto importante. Naturalmente si aggregeranno bambini, ci sarà un momento di relax ed è giusto ogni cosa che si fa sia per il territorio sia per Montelebre e Giardinello la collaborazione. Comincio nel fare i miei migliori auguri e le congratulazioni all'associazione Attivamente che caparbiamente ha portato avanti negli anni questo progetto presentandolo presso le ente il comune di Montelebre trovando piena disponibilità da parte della mia amministrazione che cofinanziò il progetto e il cofinanziamento garantì anche un buon punteggio. Il successo quindi è comune e in questo caso come in altri la sinergia tra la iniziativa privata e in questo caso del mondo del terzo settore con gli enti locali può costituire un successo. Soprattutto se pensiamo che sono buone opportunità di lavoro per i soci dell'associazione ma grandissima opportunità di servizio reso alla popolazione, in questo caso penso alla popolazione dei più piccoli. Quindi auguri, buon lavoro e grande soddisfazione per essere stata presente anche in questa occasione. Il ruolo delle donne nella vita sociale è fondamentale soprattutto qui a Montelebre con questa iniziativa che per noi è stata accolta dall'amministrazione a pieni voti come si suol dire perché è una attività fondamentale soprattutto appunto perché coinvolge i bambini. Noi ci abbiamo creduto tantissimo su questa iniziativa che è stata che è iniziata con l'amministrazione precedente e quando ci hanno prospettato il progetto immediatamente abbiamo aderito a questa iniziativa che è bellissima, meritevole. Voi vedete gli ambienti come sono stati allestiti e questo centro aggregativo serve tra l'altro molto importante sottolineare il fatto che è al centro del paese. Questo significa che sicuramente sarà fruito da tanti bambini e tanti giovani che se vogliono qua passare delle ore liete nelle zone evocate alla manipolazione, ai giochi e a quant'altro. Di questa iniziativa noi ne porteremo avanti altre, sicuramente con l'associazione di Giuseppe Romano o anche altre associazioni che si vogliono proporre. Che dire, è una bellissima domenica questa per far vedere a tutti quella che noi sappiamo fare a Montelebre in Pattenerato e con gli altri comuni di Giardinello e di Borgetto e spero che questa iniziativa si prosegua per altre situazioni che possono venire.